Good morning a tutti voi! Da Luca passiamo a Giovanni, a uno dei capitoli che io amo particolarmente, ecco, per tanti motivi, perché è stata il brano della seconda messa rock, qui al cuore immacolato, quando ancora io non ero parroco, per tanti campi scuola che abbiamo fatto su quest'unico capitolo, il capitolo 21 di Giovanni. Dopo questi fatti Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Dopo questi fatti, dopo questi giorni, potremmo dire Gesù si manifesta di nuovo, cioè ancora e ancora e ancora una volta, ma anche di nuovo, cioè in un modo nuovo. Gesù si manifesta a te sempre in un modo nuovo. Perché? Perché nuovo è questo giorno che abbiamo da vivere. Nuove sono queste 24 ore che per quanto siano simili a quelle che noi abbiamo vissuto ieri, ieri sono nuove e Gesù si manifesta di nuovo a noi. In questo modo. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso, detto Didimo, Natanaere di Canne di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. E sono sette. L'ultimo capitolo di Giovanni, l'epilogo, è un capitolo molto particolare, perché Giovanni fa già una conclusione al capitolo 20 e poi c'è questo capitolo 21esimo, in cui, li ho contatti con le dita, sono sette. E gli altri dove sono? E questa cosa qui mi affascina sempre. Perché gli altri non ci sono. Cioè, nella Chiesa ci sono dei problemi fin dall'inizio, non ci si ritrova tutti uniti, qualcuno non c'è. E questi sette potrebbero passare il tempo a dire quelli che mancano, quelli che non vengono, quelli che non vengono, quelli che non vengono. Non ci ritroveremmo in sta cosa qua? Che ci lamentiamo di quelli che non vengono? Ma Gesù si manifesta di nuovo così a noi. E non dobbiamo pensare a quelli che non vengono. Devo pensare a me. E Giovanni, alla fine, ripete tutti i soprannomi, no? Cioè, ancora a sottolineare una volta che Gesù si manifestò di nuovo così, a sette su undici, e alle storie personali. Perché Gesù si manifesta a te in modo diverso da quel che si manifesta a me. E se io volessi riportare la tua esperienza alla mia, cioè ricondurre semplicemente la tua esperienza alla mia, farei un grave errore e una grave violenza. Ognuno è lì con la sua storia e il suo soprannome, che è bellissimo. E Pietro dice, boh, io vado a pescare. Veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Sono già a quattro minuti, quindi non vado avanti. Quella notte non presero nulla e poi Gesù è già là, sulla riva. È già là sulla riva e dice, incertate la rete dalla parte destra. Cioè, ci richiede ancora fiducia. La gettano, hanno una pesca miracolosa, come avevano debuto all'inizio del Vangelo, in realtà nella versione di Luca. E il discepolo che Gesù amava, Giovanni, dice, è il Signore. Bellissima sta cosa qua. Il discepolo che Gesù amava. Cioè, chi ama, riconosce prima il Signore. Chi ama, riconosce prima Gesù. Chi ama, arriva prima. Anche in questa giornata, eh, arriverai prima a riconoscere Gesù se amerai. Se sarai un volto nella tua vita, in ufficio, ovunque tu andrai, nella dad o a fare la spesa, se amerai, potrai riconoscere il Signore. Anzi, lo riconoscerai prima, prima, prima magari di chi ha, così, dei ruoli istituzionali come me, ad esempio, ecco. Se ami, arrivi prima di me. Le cose belle della giornata di ieri. Ieri ci siamo visti con l'equip dei responsabili dell'estate ragazzi. Butto lì questo, questo, questo slogan. Sarà un'estate bellissima. E mi entusiasmo a sta cosa qua. Mi entusiasmo perché ho dei giovani, eh, grandi. Che hanno voglia di buttarsi. Nonostante potrebbero fare altro nella vita. Ecco, hanno un lavoro, magari hanno altre attività. Ma hanno voglia di buttarsi in sta cosa qua. Poi ieri sera ci siamo visti con il progetto Policoro. Cercate su internet. Policoro. Chiesa italiana. È una bella cosa. Sono sei minuti, quindi bando alle ciance. Però è stato veramente un bel incontro di scambio, anche lì di passione. Sarà un'estate bellissima. E sarà un progetto Policoro bellissimo. Ale. Buona giornata a tutti voi.